Buonasera, sono Antonio Forchignone, direttore del Coro Murialdo di Foggia. Abbiamo appena concluso una riunione con la ditta Ipo, rappresentata questa sera dal signor Andrea, che ci ha relazionato, ha fatto una bella illustrazione sui materassi e sugli articoli di questa ditta. Siamo stati molto contenti e in cambio di questa serata abbiamo avuto come elargizione 700 euro. Ciao, arrivederci a tutti.